il pubblico stavolta sono in compagnia non sono da solo salutate la casa ciao oggi apriamo ben due box io p05 le sponzettate d'attesa st'altro chiamo a mario che è uno delle mascotte del canale no no non ho portato le forbici dell'idea ammattiamolo le famose forbici dell'idea ma questo è il kunai di naruto qua è il one piece and then naruto non è vero ma allora la vista delle carte e andiamo con la prima di questo proprio lavoro tutto io quando il sito qua lo prende nel box 24 periodo abbastanza sfidato anche perché immagino già cominciato a ciò e poi è tornato mi sono ripagato il box tipo una carta di credit ma non direi per i copribustini ma che cazzo è siamo a casa di Uten qua siamo a Wano ma che cazzo è poi ci sono i diritti di casa shogun quindi devi pagare anche i diritti di casa shogun metà prezzo di vendita ma si ma mo tutta la gioia di tutte le altre carte ci vediamo al prossimo ma anche di Madrid c'ha l'ultima bustina ma anche iniziato ma l'altro box è shoramanga io giro il modello ma l'ho sposto e lui ne ho superato il valore è vero puoi farlo vabbè le super anche qua vicino mi aiuti a mettere ordine se ne trovi due sono 2000 euro ma penso valga pure più di 1000 ma male vedi questo l'erara sarebbe la carta firmata dall'autore di One Piece ma questa mica è firmata però è firmata dall'autore di One Piece e dove la firma? e non l'avevo vista ma no non l'avevo vista ma che? perché c'è le forchette queste? non piace la pianta classico questo non è tirato che va bello che me fa? ma sta guardando solamente a te ma sta forcce ah no ah no non capisce più la maestria adesso è prima poi anche con le mani c'è anche una cosigna vabbè faccio una io a studio aspetta che qua c'è la mano della rima ha proprio la cacciaruna vedi un'altra cosa bella qua vai Merck non bellissima il soffio c'è il soffio c'è guarda qua guarda qua guarda qua ma è normale trovare il ketchup ah la secret che mi serviva il kaidone no mi raccomando ma posso dire il code box quasi come sono io? ah iscio vai eh super ma è bene ah è bene ma è bene fa in Italia questo ok ottiene super come faccio a capire se c'è una cosa in direzione ultima ragazzi fatene vedere alle telecamera poi poi questo video è diventato basta brava ma tutti lo vedranno solo per capire per l'inizio si ferma nei primi 5 secondi e poi lo metti in loop si ma sai tu vuoi fare che apri tipo gli ultimi prima nel video capito? no ma niente un'ounce blade e un'akainu è il don il don è essenziale è il don è il terzo don che trovo faccio vedere io comunque Merck one e two e tre magari se il god boss vai 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 è bello è bello è bello perché l'ho spacchettata io e la mettiamo qua ah Lucci mi serviva è il sogno perché si perché perché suffiato tre volte mi sembra da andrò più niente trovo più niente no si sicuro si sicuro infatti non trovo niente se c'è un capitolo qualcosa questo ma non desumace la lascio lì ha detto l'utente che quella la lascio lì quella è l'ultimo quella è l'ultimo allora questo me la trovo via vai joy boy io non vedo non vedo io vedo da qua dallo schermo non devi vedere dallo schermo dbs nino cazzo shirashoshi shireoshi si intravede qualcosa no andrei a me lo zoro a chi vuole risalti no zoro vabbè 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 quando c'è il leader non c'è nulla il bello che si alterna l'elettricità veramente c'è il potere di elettricità il frutto che non è chiamato apposto soffito tre volte soffito questo è il leader con il don il don il don il bianco dietro qual è la spalla si ricorda la spalla la misala sinistra o la spalla destra la spalla destra non conosco questa questa è una leggenda della parola ricorda di quando andavamo ad aprire i tocchetti di yuri si trova al finimondo quando mi viene toccata la spalla destra e infatti in una sera troviamo briona che il come si chiama il demon eterno sincro activate è la carta firmata da katsuki da katsuki hai 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 utente fammi sognare utente fammi sognare utente fammi sognare eh borsalino borsalino mi serviva tutte carte luci saca luci più carta firmata questo box ormai questo box ormai ma io posso fare un altro video ti puoi vendere pure tu su only part però dovrebbe esserci uuuuuh chi d'alterna chi d'alterna buona buona ma è terra molto buona siamo così metta a fuoco questo è bella perché gialla questo è il primo bobbiamo apri un'altra bustina questa è bella perché è bella ma sono in attesa io perché è stata super divertente e non so che cos'è vado e la mettiamo qua ma su mamma mia ma aspetta questo è quello di mettere qua posso dire dodo doing dodo doing che cosa c'è sotto x drake è un altro kid però non è la stessa ma dei ragazzi è di una solidità sconcertante questo si saluterà scusa ma è un altro kid alla grande si si ma è un po' bene sto box ma chi è questo Breno che aveva la gold card ok quindi primo box è andato primo box brucia attenzione l'ultima di Breno ma luce è una super indirizzo di casa di Star Wars 3 ma tanto diamo quello venite qui se volete trovare è vero venite a un castiglio c'è Black dove è un film Black che stai facendo Black oddio aspetta ma che me lo apro la prima la prima la devi la devi spessare sono 24 pacchetti metti 4 pacchetti dite un numero io 7 15 15 17 non ho 7 uno più che è l'occhio intanto io vado abbastanza spedito ok l'altro borsalino che è 7 che è 7 che è 7 borsalino ah tu lo devi vedere bello è però 7 allora smarco da qua ah si ah si che borsalino quanti abbiamo trovato 2 che poi comunque trafazza la cosa va bene c'è pure che ti serve 12 12 perché questo è spesso questo è mia se lo diciamo 2 mi piace e qua proprio il tocco bam che tra l'altro ci sono tre tre numero tre grazie per il giorno questo è rivoluzionario primo poi io ho trovato Carlone si ma prima o poi dodo doink inazuma non so dove guardare troppi spacchettamenti contemporanei vai 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 gira gira questo è il go il vero ghost è lui non so che è questa però questo è bello il colore questo la mettiamo qua un altro borsalino vabbè bello è bello è bello ma c'è anche questa bella la imbustiamo questa è bella alternativa di quel borsalino di due poi lo batte un altro numero numero killer no guarda no mi senti più cosa fa roberto il nature il vincito guardate la texture è incredibile ok a voi prendi l'acqua questa acqua e mi fido di te io pio questo questo è senza soffio questo è senza soffio l'avete lasciato qualche scelta per roberto questo ma lui mi ha già la scelta eccolo qua beh un altro rete prego marco mi dico ma scusa che stiamo cercando per capire così ok vai a fruttare la doppia lo fighi al file ok lo fighi al file 3 3 3 ti intanghi la piccola 3 cose per parte ah vedi ho trovato quello all'altro non so più no che non fa mai male sono per i miei euro e poi va bene è una cosa è una cazzatina bravo 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 ho trovato questo non so che sono tieni ok ora vedete dentro la camera non lo fighi al file tieni ho trovato quest'altra senza firma ma ce la metto io ce la metto io la rina con la firma della Bruna secondo me vale di più posso dire ma si va oh da chi cazzo ma che stiamo diciamo ah per quello ripresa eh no no questa l'ho messa io io ho usato la mia mioc ulti mioc magari voilà la terra ma dopo pensavo fosse una manga un po' visto la mano avrei provo guarda voglio usiamo pure questo ma manca ancora la secret vero non è garantita ah non è garantita ah non è garantita vabbè più segreti di quella posso dirlo ah è luce è un peccato ti ha dato ah grazie te acquisti mette pure a sabo plastificato vai luce no sabo leader pure c'è sì cioè poi il leader cosa buona è che puoi prendere a 50 centenze perché sono poco eh no 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 non la vogliono vedere eh fammela vedere no pregiate non la voglio vedere ma anche di luffe è bianco oh eccolo lui ah ok te l'ho detto Riccardo non so cos'è questa cosa eh vabbè che adesso non so cos'è questa cosa e questa è la firma della Rinaldi la cosa la mette in qua ma qua c'è un altro da aprire ma è quello che si ma quale era più finita di fine sì peccato è stata troppo emozionata ma che dire fai uno spoiler per il prossimo video beh facciamo spoiler per il prossimo video abbiamo uno 503 danneggiato quindi lo apriamo quello che si è il video ma è il video un po' mannaggia però niente ragazzo io volevo tenere un po' di suspense in tutto il video ma a prima bustina fermate i primi 5 secondi e niente io faccio passare giusto un sabo qui ah ma solo voi grazie caccia la caccia caccia la caccia e ci vediamo nel prossimo video iscrivetevi se vi piacciono i contenuti in One Piece e iuki nel caso bye bye bella bella